Apri il tuo ufficio postale in franchising, siti poste e anche pagamento bollettini, sitiposte.it Una lunga vita professionale ed ha inviato Rai, tanti ne ha viste vissuti in prima persona degli avvenimenti più importanti della fine del Novecento. Pino Scaccio ha voluto cristallizzare sul libro quello che ha appreso in tanti anni di carriera, Mafia, dalla Russia con Ferocia, il suo ultimo lavoro letterario, e racconta dell'avvento della mafia russa presentato ad Ascoli nella suggestiva cornice del parco di Via Orlando nell'evento promosso da officine sociali. Fra i posti che ho visitato più a lungo, più lunga sala permanente, sta proprio la Russia, ma nei due anni importanti, dal 91 al 93 in cui c'è stata la sformazione, la disgregazione dell'impero sovietico è diventata la Russia. E da lì è nata la mafia russa, per cui mi è piaciuto ricostruire il momento in cui si sta creando allarme in Italia e ricordare com'è nata. La mafia russa c'è sempre stata, ma sulle cenere del post-comunismo è diventata una minaccia globale. Forse non è la mafia più forte, ma la più ricca, ed ha la capacità di trasformare in attività lecite tutto il malaffare. Ha già invaso Europa e Stati Uniti, possiede un vero esercito di quasi 100.000 uomini, ma è quasi invisibile, cerca soldi più che sangue, e lo fa stringendo accordi con tutte le grandi mafie del mondo. E proprio la Concordia, la nave da crociera, fregata a largo della costa dell'Isola del Giglio, il 13 gennaio 2012, sarebbe stata teatro di un vertice tra mafia russa e Camorra. Ma non è che la Concordia è direttamente collegata, sicuramente, probabilmente, è stata testimone di un vertice della mafia russa, di uno degli accordi della mafia russa con la mafia italiana, nello specifico con la Camorra.